non mi calmo non mi calmo ragazzi non mi calmo e lo dico già qua scusatemi se verrà un video lungo perché verrà un video lungo sappiatelo e ringrazio chi e qualora volesse arrivare alla fine di questo video ringrazio perché prima di fare pagelle ci sono un po' di cose da dire prima di dare dei voti perché già sotto i miei video mi vengono a dire ce l'hanno rubata di qua di là eccetera eccetera ragazzi io dico qua chiaramente l'errore del VAR è grave perché è grave ok ma non è il VAR che non funziona è chi sta dietro al VAR che non funziona e si parla sempre di esseri umani però io cerco di generalizzare questo discorso del VAR perché se si parla di furto nostro cosa che ok gore a regolare tutto quello che volete ci sono stati dei furti anche nella stessa giornata di altre partite quindi non diventiamo mediocri non attacchiamoci alle situazioni arbitrali perché tu sei la Juventus tu giochi in casa e non ti puoi permettere di andare sotto 2-0 in casa tua contro la Salernitana ripeto con tutto il rispetto della Salernitana e chapeau alla Salernitana perché se l'è venuta comunque a giocare in casa nostra e nel primo tempo ci ha forse messo le palle in testa quindi onore alla Salernitana ma tu non ti puoi attaccare solamente a un episodio arbitrale è vero era gol avresti vinto la partita cambia la classifica vi do ragione ma tu non devi arrivarci al novantesimo sotto 2-1 contro la Salernitana in casa non devi arrivarci al novantesimo sotto 2-1 perché ti sei ritrovato in quella situazione perché io mi domando perché quando sei in casa con queste squadre siccome c'è una rosa superiore perché la gente dice eh manca Pogba manca Chiesa manca Di Maria ma ti serve Pogba di Maria e Chiesa per vincere contro la Salernitana io mi domando perché senza Pogba di Maria e Chiesa la Juventus non ha una rosa superiore alla Salernitana no? no? a me parevi sì quindi non ci attacchiamo alle assenze non ci attacchiamo all'errore arbitrale perché ripeto sarebbe stato valido il gol ma non mi interessa perché tu eri sotto 2-1 fino al novantesimo non ci devi arrivare non è possibile è una vergogna è uno scandalo arrivare sotto 2-1 al novantesimo in casa poi che il VAR è stato inventato per non avere discussioni e le discussioni continuano ad esserci questo è un altro discorso ed è vero perché ripeto non è una questione di Juventus all'ernitana ragazzi a Lecce non è stato dato un rigore grosso come una casa ieri pomeriggio al Bologna è stato convalidato il gol del 2-1 di Arnautovic dove c'era però un fallo un fallo del Bologna su Martini Squarta nel gol del 2-1 era da nullare anche quello gli errori ieri ci sono stati in generale non solamente nella nostra partita quindi non ci attacchiamo agli episodi arbitrali hai pareggiato hai preso un punto e te ne stai a casa con un punto ripeto perché se tu quella partita la massacravi subito subito ne facevi 2-3 a quest'ora non si parlava neanche di un errore arbitrale qualora ci fosse stato perché comunque avresti comunque vinto contro tutti contro par contro arbitro avresti comunque vinto la Juventus non ha anima la Juventus non propone calcio il mister che beve in panchina ha perso anche lo spogliatoio perché sul 2-1 quando mi va a battere Borucci il calcio di rigore che c'è comunque Vlaovic in campo mi fa capire tante cose perché Vlaovic il rigorista non Bonucci perché è nato Bonucci quando uno mi schiera Ken che praticamente è come se non ci fosse in campo giochiamo in 10 contro 11 io mi domando la logica di questo allenatore se vedi che Ken non è in condizione non lo schieri se vedi che guardare è finito che è stanco che continua a fare cazzate su cazzate ogni partita non lo schieri trovi delle alternative trovi delle alternative metti i minichi dall'inizio piuttosto che comunque nonostante la cazzata del rosso è entrato bene perché le sue occasioni le ha avute il gol avrebbe anche fatto perché questa formazione perché oh ragazzi ieri la Juventus manco il turnover ha fatto perché a parte tenere in panchina Danilo che povero Cristo le ha giocate tutte e ci voleva un po' di riposo anche per Danilo la formazione era titolare e tu non sei riuscita a vincere comunque contro la Salernità nonostante l'errore del VAR che non me ne frega un cazzo che andreva buono che andreva non buono non sei riuscita a chiuderla prima ripeto sarà una gioiante ma il novantesimo se non ti danno quel rigore perché per me c'è perché comunque Alexandro viene sfalciato da da coso di adesione come si chiama tu non la pareggi tu vai sempre sul 2 a 1 con la Salernitana in casa vergogna scusate questa intro un po' lunga 5 minuti cerco di essere più veloci nelle pagelle per non fare un video di 30 minuti Perine i do 6 Perine ragazzi sui gol non può farci nulla parliamoci chiaro cross di Mazzocchi teso gol di pancia di Candreva e rigori dove viene spiazzato li tira fuori di Piontek di Dia eccetera eccetera li blocca quindi le sue parate le fa e gli si dà il 6 a Quadrado io lato 3 ragazzi perché sì perché Quadrado non ce la fa più deve riposare il mister non lo capisce perché sbaglia un passaggio su Paredes nel primo tempo dove permette un contropiede alla Salernitana dove Maggiore sbaglia il passaggio poi Bremer la tocca col tacco ma lì è Maggiore che sbaglia il passaggio rischiamo di pierre un 3 contro 2 per colpa di Quadrado buca l'intervento sul primo gol di Mazzocchi non prende mai Mazzocchi ragazzi non lo prende mai 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 perché Mazzocchi a difenza di Quadrado era un fenomeno ieri e poi Pianchi e Rosso per frustrazione così complimenti non ci sei manco la prossima forse meno male che non ci sia la prossima Quadrado così almeno ti riposi un po' anche te perché non è più fiato 3 ha premiato il 6 è vero causa il rigore del 2 a 0 quella a mano è larga è vero si perde anche Pionte che calcano un rimbalzo male nel primo tempo dove Pionte chi piglia il tempo e lì Bremer lo sfiora rischiamo anche lì il calcio di rigore anche se poi non era tu uno simile a Vlavic quindi in questo caso per fortuna l'abito è stato pari e che dire Bremer 6 perché poi meno male il gol te lo fa il gol te lo fa Bremer quindi si fa un po' mezzo per donare però non è stata una postazione bellissima cioè se non era per il gol Bremer è insufficiente siamo chiari poi decido 5 e mezzo no Bonucci scusate Bonucci Bonucci 6 anche lui sbaglia il rigore e poi grazie a Dio lo ribatte nel senso la palla gli viene incontro quindi riesce a trovare il gol fa quel bellissimo lancio anche per Miretti perché Bonucci ce l'ha questi giocati Miretti purtroppo non è molto bravo nella gancio però diciamo che la sufficiente se la può se la può anche prendere perché poi gli errori dei gol non sono proprio dei difensori centrali se andiamo a vedere se andiamo a vedere non sono proprio loro gli errori De Scio 5 e mezzo gioca 60 minuti ma spinge poco spinge poco 5 e mezzo è inutile De Scio è inutile cioè non si è fatto vedere ieri io De Scio veramente non so cosa abbia potuto fare per farsi notare veramente l'ho visto poco e nulla poco e nulla 5 e mezzo inutile McKennie 5 praticamente McKennie sviene sviene sul doppio passo di Mazzocchi sviene cioè sviene lo fa andare anche McKennie anche se poi l'errore principale di quadrato palla al centro e va e gode la salernitana di Candreva poi al centrocampo non mi è piaciuto a volte si allarga sull'esterno che esterno non sa farlo l'ho detto 20.000 volte quindi 5 Paredes 5 e più per carità quando devi giocare la palla te la sa giocare ha provato anche qualche volta la conclusione da fuori un calcio di punizione anche comunque alto per quello non lo discuto però ragazzi Paredes buca l'intervento del 2 a 0 cioè il fallo di mano parte da tutto dove Paredes buca l'intervento oppure lui come buca quadrato buca l'intervento in questo caso su Dia se non sbaglio ci costano caro questi errori ci costano caro questi errori e quindi 5 e più anche per Paredes Miretti 6 lo so sbaglia due cose abbastanza semplici nel secondo tempo oddio lo stop non era semplice di Bonucci su quel lancio però sbaglia anche un altro controllo nel secondo tempo però nel primo tempo è quello che accende un po' la Juve due tiri uno parato di sepe l'altro mezza papà di sepe e lì di Ken a due passi non la butta dentro perché poi quel giorno di rivedendolo era in gioco Ken era in gioco e poi ci arriviamo a Ken quindi Miretti ragazzi 2003 il migliore in campo della Juve al centrocampo e vi ho detto tutto vi ho detto tutto tutto quindi 6 per Miretti Ken Ken 2 Ken ragazzi Ken la partita di Ken è stata questa dagli la palla cerca di coprire palla e perde il pallone poi sul tiro di Miretti dove sepe non blocca se lì due passi tiri sepe per carità molto reattivo ma tu io mio su tua porta tiri devi far gol da lì devi segnare da lì devi segnare poi fa un fallo clamoroso si vede tranquillamente che Ken spinge l'avversario cosa fa? per frustrazione da un calcio al pallone ti prende anche giallo perché se con te quello lì non era fallo cazzo lo spingi non è fallo e quindi pure è giallo perché scalci il pallone oh Ken oh Ken sei impresentabile non serve a un cazzo questa Juventus non serve a nulla non serve a nulla non serve a nulla Vlaovic sei io Vlaovic lo voglio premiare perché per carità il gol annullato è fuori gioco perché però è fuori gioco anche qua ritornare a Ken perché Ken sbaglia ci mette troppo a servire Vlaovic e il tempo che comunque lo serve Vlaovic va in fuori gioco se lo serviva prima a quest'ora quel gol lì era valido però lei hai fatto sì che Vlaovic aspettasse che andasse in fuori gioco ma servilo prima cazzo e comunque in quel gol in fuori gioco bene o mai tiene botta non lo sposti tira e aveva fatto gol poi comunque fa un tiro a giro nel secondo tempo dove sempre glielo appara fa un altro tiro fuori da fuori aria dove comunque fa destro-sinistro destro-tiro e la palla c'è fuori di poco Vlaovic per creare le occasioni Vlaovic doveva uscire fuori dall'aria ha tirato fuori dall'aria perché in aria non arrivano palloni poi ha avuto anche un cross di Kostic comunque di testa ha provato a girarla ma non era facile Vlaovic ha provato ragazzi Vlaovic ha provato io non posso non bocciarlo perché ci ha provato Vlaovic povero Cristo sei Kostic sei più perché Kostic è quello che bene o male mette tanti palloni interessanti tanti palloni interessanti infatti non a caso il cross dell'assist è di nuovo suo è di nuovo di Kostic di Bremer ottimo assist però siamo sempre lì se questo qui fa dei buoni cross ma non riempiamo questa merda di aria di rigore è normale che poi i suoi cross sono inutili è normale che sono inutili Kostic Kostic fa tantissimi cross alcuni di sbaglia ma alcuni sono interessanti ma non c'è mai nessuno che va a piarsi questo pallone al centro aria e allora sei più perché a me non mi è dispiaciuto allora ragazzi a Milik io ho fatto 5 la prestazione per me di Milik è da 6 perché 45 minuti entra tiro a giro esce fuori della palla di poco tira da fuori aria scheggia una traversa e poi ha fatto comunque il gol che sarebbe stato da convalidare per il 3 a 2 e quindi nel senso il voto di Milik può essere solamente che positivo però io il 5 glielo do per una questione di mentalità di mentalità gliela do a Milik perché io capisco l'euforia capisco tutto hai fatto gol al 92esimo stavi regalando 3 punti alla tua squadra e nell'euforia ti togli la maglia ma se sai che sei ammunito e ti prendi il doppio giallo e vieni espulso che poi alla fine vuoi non vuoi valido non valido perché era valido però di gol te l'hanno annullato tu ora la prossima non ci sei col Monza non ci sei e saremmo obbligati a rischiare quel cadavere di Ken perché non ci sei perché sei espulso perché quella ammunizione lì era tranquillamente evitabile e allora ti do il 5 per una questione di mentalità non di prestazione per quanto riguarda la partita perché poi Milik è nato bene infatti io avrei preferito un Milik dall'inizio invece che quel cadavere di Ken che si gioca in 10 poi passiamo ai subentrati no Milik era già un subentrato Alexandro oh Alexandro sei più sei più ti dirò sei più sì perché comunque è entrato abbastanza bene ha provato anche a fare un tiro da fuori aria dove la palla esce di non tantissimo neanche ma ci ha provato si procura un calcio di rigore netto perché comunque lo stendono lo stendono in area di rigore chi dice che non è rigore per me di calcio non capisce un cazzo lo stendono quindi è fallo si procura un calcio di rigore cazzo lui dice ma a riuscire a mandare un punto minchia un punto contro la Serenitana in casa oro oro però ragazzi Alexandro sei più perché alla fine ha fatto quello che doveva cioè pazzesco Alexandro che più ha goto i migliori rispetto agli altri Fagioli sei più è entrato bene ragazzo è entrato bene al posto di Meretti cioè fa il tiro nel finale dove vabbè non riesce a bloccare spapperà un pochettino la manda in calcio d'angolo poi con quel calcio d'angolo lì si è propiziato il gol annullato però Fagioli è entrato bene in campo ha occupato anche qualche pallone a parte comunque il tiro pericoloso ha avuto personalità questo ragazzo perché era in campo in una partita non semplice perché comunque si stava sotto e quindi bravo bravo Fagioli sei più Danilo gli ha dato sei ragazzi mette giusto quel pallone lì che non è un tiro non cross ha provato a mettere un tiro cross un po' al centro Mili che giustamente non ci arriva un po' una palla messa così a caso però ha giocato così poco che gli ha dato sei il classico sei diciamo politico a Sule do senza voto perché comunque ho visto troppo poco per valutarlo e ad Allegri do zero do zero sì per me Allegri ormai è nulla cosmico è nulla cosmico perché ripeto gli hanno fatto il mercato che voleva ok hai gli infortuni c'è delle assenze ma ripeto non servono Pogba Di Maria e Cazzi e Mazzi per poter provare a vincere contro la Salernitana in casa tua poi sbagli la formazione perché gli metti Ken dall'inizio che comunque Ken non serve a un cazzo c'hai Milik in panchina schiera subito Milik non fai riposare quadrato che quadrato è inutile perché è troppo stanco e si vede mi togli Costic nel secondo tempo che è l'unico che ha fatto dei cross decenti che possiamo provare a fare dei gol grazie ai suoi cross me lo togli me lo togli Costic me lo togli anche questo cambio qua non lo capisco proprio ma allora Allegri che cazzo ti devo dire ti fai a spegnare perché fai il pagliaccio perché fai il pagliaccio e classiche altre dichiarazioni scorcentanti cioè scorcentanti in post gara dove comunque secondo Allegri siamo partiti bene più di 10 minuti è stata una partita comunque nonostante positiva dove cazzo l'ha vista la partita positiva sempre e solo lui sa vedere bene il lato positivo lui lo sa vedere in queste partite io non lo trovo sinceramente il lato positivo non riesco a trovarlo e quindi Allegri gli ero 0 0 basta io fossi in Allegri mi sarei già dimesso ieri sera mi sarei già dimesso ieri sera perché non ci sono scusanti che trovi trovano non ci sono scusanti e tu ora c'hai il Benfica c'hai il Benfica caro Allegri e lo sai che se non vinci col Benfica ma anche un pareggio tu rischi la Champions League rischi di non passare i giorni di Champions se tu non vinci col Benfica perché loro comunque la prima hanno vinto anche un pareggio non ti salva Allegri vedi per forza vincere in ogni modo perché siccome mi sono svegliato stamattina che tu sei ancora allenatore della Juventus perché non c'hai le palle di dimetterti occhio a quello che fai in Champions League perché se non vinci col Benfica ti massacriamo già ti massacro ho massacrato ieri ti massacro ancora di più io Allegri perché mi raccomando perché se non vinci col Benfica la Juventus quest'anno ragazzi mettiamoci in testa che se non vinci col Benfica non arriviamo manco agli ottavi ce ne andiamo giù in Europa League perché questa è la realtà dei fatti e questa è la realtà dei fatti Juventus senza anima Juventus senza anima ripeto ok il gol era regolare ma questo non cambia la prestazione della partita non diventiamo mediocri non attacchiamoci agli errori arbitrali perché se tu la domini da inizio alla fine in casa tua come deve essere contro la Serenitana errore o non errore tu questi tre punti te li portavi a casa fine fine perché non ha senso parlare tutto il tempo di errori arbitrali c'è stato l'errore stop basta ma tu comunque in casa tua fino al novantesimo che non ti davano quel cazzo di rigore che si procura grazie di Dio Alessandro sei sotto 2 a 1 con la Salernitana onore alla Salernitana onore a queste squadre che se la vengono a giocare con tutte le squadre perché è così che deve essere noi invece non ce la giochiamo mai con nessuno praticamente ma l'unica paese che abbiamo fatto bene è con la Roma che abbiamo pareggiato stop fine basta non so quando mi passerà ragazzi non so quando mi passerà sinceramente però vabbè dai queste qua sono le mie peggiole personali per quanto riguarda l'incontro di squadro ieri tra Juventus e Salernitana fatemi sapete qui sotto nei commenti un po' voi cosa ne pensate appunto delle mie peggiole personali siete d'accordo con me oppure no o se non siete d'accordo comunque scrivetelo qui sotto nei commenti così poi ne parliamo ci confrontiamo lasciate un bel like se avete che le peggiole continuano fino a finire le campionate non solo ragazzi perché se vedo il vostro supporto le porterò anche per la Champions League e la Coppa Italia ogni volta che giocare la Juventus e soprattutto ragazzi anche se piacere iscrizioni al canale che è importantissimo non costa voler tanto basta che fate clicco su iscriviti se siete iscriviti se non costa nulla mi spero di così non solo fatevi un cazzo di cuore condivido i video con i vostri mi piace di iscrivere anche loro e attivate le notifiche così non prendete i vostri video passate anche sotto l'inglese sulle barri di Tifosi Channel e al link dal mio profilo Twitter fino alla fine forza Juve mi raccomando e certi giocatori comunque devono svegliarsi perché in questo momento nessuno merita di indossare questa maglia la maglia della Juventus comunque sempre fino alla fine forza Juve si sostiene anche giustamente nel periodo in cui non gira tanto va bene così bella e ecco Grazie a tutti.